Rafforzi la mano dell'Italia, del governo italiano, ancora di questo governo in marzo e poi del governo futuro, nel perseguire con ancora maggiore capacità di convincimento quell'azione che dall'inizio abbiamo condotto in Europa perché accanto alla disciplina finanziaria ci fossero più spazi per la crescita. Questo ha dato risultati, a questa azione si è poi associato con tutto il peso della Repubblica Francese il Presidente Hollande, abbiamo avuto dei risultati al Consiglio Europeo di giugno con il patto per la crescita e con l'adozione di principio di un meccanismo, uno scudo antispread che poi nessuno per ora ha utilizzato, ma se oggi gli spread non schizzano più in alto è anche perché si sa che c'è questa possibilità e quindi questa è la situazione.